Si erano basati fino ad ora su stime che nonostante tutto mostravano dati inerenti ad una crescita sostanziale riguardante il 2015 e ad una nuova fase di espansione, seppure a rilento, del 2016, quando vi era ancora il governo Crocetta. Ma ecco che dall'Istat arrivano nuovi dati riguardanti quel bienio che ribaltano lo scenario. Doccia fredda all'assessorato guidato da Gaetano Armao. Stando alle nuove previsioni, infatti, la variazione del PIL di tre anni fa, fino ad ora stimata al più 1,5%, nella realtà si ridurrebbe allo 0,8%. Ma non solo. Per il 2016, se i dati iniziali mostravano un incremento, seppur minimo, dello 0,6%, quelli attuali presentano un risultato in recessione dello 0,1%. Questi dati, ha dichiarato l'assessore all'economia Gaetano Armao, ci fanno temere un'ulteriore riduzione del gettito in prospettiva, con una situazione ancora più grave di quella che avevamo descritto. Soltanto la settimana scorsa, infatti, l'assessore Armao e il governatore Nello Musumeci avevano mostrato pubblicamente i risultati dell'operazione Verità sui conti della regione, svelando un disavanzo di 5 miliardi e 900 milioni e un indebitamento di 8 miliardi e 35 milioni. Adesso dunque bisognerà verificare nuovamente la situazione finanziaria regionale, che stando ai vecchi dati, come dichiarato da Musumeci, avrebbe pesato sull'attività della Giunta per i prossimi tre anni.